Dopo tutto questo tempo ci ritroviamo Ciao Angeli, benvenuti in un nuovo video, chi sono io? Io sono Charlie Oh e oggi siamo riuniti nel sacro vincolo dello shopping propedeutico Niente, all'avere il portafoglio vuoto Cos'è successo? Se avete visto i miei ultimi video, non quelli di Sanremo, il vlog Sono stato a Londra Io in pratica sono andato a Londra per fare shopping Sia anche per vedere i musei, per vedere la città, per mangiare, ma per fare shopping Perché a Londra ci sono un sacco di brand che qui non abbiamo Quindi bando alle ciance e buttiamoci subito in questa full face e ricordiamoci quanto ho speso Non ho preso abbastanza prodotti da fare una full face perché Fondamentalmente non c'erano molte cose che mi interessavano in realtà A livello di palette è tutto molto noioso in questo periodo Ce n'è solo una che vorrei ma lì non la trovavo fisica, qui la trovo online Quindi non ne valeva la pena e quindi non è che abbia preso così tanta roba Ma quello che ho preso è succulento Certo io invece di fare come gli altri colleghi miei che vi dicono iscrivetevi Vi dico già che questo video sarà una noia Però ecco, viva l'onestà Qui siamo persone oneste, siamo persone sincere Ho preso due primer, un primer che non è in hype ma io desideravo, lo volevo da anni E quando l'ho visto dal vivo ho detto sei mio L'ho proprio preso così dalle mani della commessa Questa commessa è troppo tenera L'ho preso e me lo sono intascato E stiamo parlando del primo store Selfridges è una sorta di rinascente La potremmo chiamare così perché poi Arroz è una cosa ancora più grande Selfridges è proprio una sorta di rinascente Dove ci sono un mondo di brand beauty È moda chiaramente Però un mondo di brand beauty Ma proprio tanti 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 brand che sogniamo Brand che vediamo online ma che non abbiamo mai avuto possibilità di prendere E stiamo parlando di taccia Che non so voi ma a me ricorda tantissimo Paccia delle foglie dell'imperatore Questo primer non è più così tanto in hype si dica la verità Però è uno di quei prodotti iconici del mondo beauty E non potevo non prenderlo Quello che promette di fare questo primer è Creare un livello invisibile di seta Aiutando a preparare la pelle per far durare di più il make up E grazie alla sua formula vellutata Aiuta a minimizzare l'eccesso di lucidità e i pori Il pack è delizioso Si apre come una scatoletta di lusso Dentro c'è questo foglio in carta di riso E già così in pratica mi ha comprato Questo è il primer in tutta la sua bellezza È una signorina che mi ha aiutato nella mia esperienza da Selfridges La chiameremo Genovezza Perché era tanto tenera Mi ha detto che c'è questo bottoncino Che serve per prelevare il prodotto Infatti come vedete c'è questa righetta qua Che vi dice esattamente quanto ne dovete prendere E in più vi permette di non sporcare di germi il prodotto Geni Geni Ok? Sono dei geni Si vede che è un prodotto che parla un po' di lusso Diciamoci la verità Ma siccome in questo canale siamo aiutati da una doppia angolazione Possiamo andare a vedere bene l'effetto della mia pelle prima E dopo soprattutto perché la mia altra macchina fotografica Vi fa vedere pure gli errori che hanno commesso le mie vite passate Questa è la mia pelle prima E ora vado a provare il prodotto Tra l'altro è bello pesante Ma qui c'è uno strato di protezione direttamente il prodotto Penso il prodotto Quindi vado a prenderlo Sembra un delitto rovinarlo Lo metto sulle mani La placchetta poi la pulirò E lo va... Mamma il profumo Fa di nonna ricca Nonna del sud Italia ricca Perché ha questo leggero Rimando di limone Agrumato Forse è bergamotto, non è limone Vado a spingere per bene il prodotto Nella pelle E andiamo a vedere la mia pelle da vicino A livello di pori mi aspettavo un po' di più Però effettivamente ha creato un effetto molto valutato sulla mia pelle Sembra Sempre la mia pelle però migliorata Devo capirlo però Perché forse lo sto utilizzando male io Perché mi ricordo che quando lo facevano vedere gli altri Era proprio effetto blurring pesante Tra l'altro avrei pure potuto leggere Le cose ma... Continuiamo sempre con i primer Perché non lo so In quei giorni mi ero fissato con i primer E quando ho visto questo prodotto di One Size Beauty Ho detto lo devo avere Questo è sempre un primer che Secondo quello che ci promette Dovrebbe bloccare il sudore Infatti si chiama Secured Sweat Di One Size Beauty One Size Beauty teoricamente è rivenduto in Italia Da Douglas Non è che si trovi molto da Douglas Quindi ho dovuto prendere un aereo E andare direttamente a Londra Perché chi non lo farebbe no? Dopotutto Il prodotto è così Ci ricorda un po' Un dentifricio Una... Mi ricorda un po' invece quelle paste Che usano i papà tendenzialmente Come crema a mani Perché le cose di latta piacciono agli uomini etero C'è questa affascinazione che non capisco Si sentono tutti ingegneri robotici Quando hanno qualcosa di latta e duro e freddo Andiamo a provarlo Dentro si apre un po' come il gentle in beta Con questa... Mi ha schizzato tu Amico Ma questa continua ad uscire Fermati Ok Vado a metterlo Ne ho messo forse una quintalata E dovrebbe anche matti Mattificarmi Dunque La stesura è Meno elegante di quello di Tatcha C'è anche una differenza di prezzo Ma neanche tanto eh Perché comunque costa un po' Anche... Quello di Tatcha L'ho pagato 51 sterline Che sono circa 60 euro Questo di One Size L'ho pagato 34 Che sono più o meno 40 euro Quindi non è che stiamo parlando proprio di prodotti cheap Perché... Ecco Ehm... Dunque Non noto Che mi abbia mattificato così tanto E... Siliconico Però allo stesso tempo liquido Devo dire c'è un mondo di differenza Rispetto all'applicazione di quello di Tatcha Che è proprio una coccola Ehm... Che andiamo a vedere un po' nel tempo Come si muove Andando avanti Mentre tutto sto ambire bam Si eh... Asciuga Vi parlo di Boots Boots è una specie di Pharmacy Che più che una farmacia Più che uno speziale Come lo chiamavano i nostri antenati È una specie di eh... Trovi tutto quello che ti serve C'è tantissimo makeup low cost Tanto tantissimo C'è NYX C'è LA Splash Eh... Elf Un sacco di brand low cost Ci sono anche brand più high cost Mi pare che ci fosse Tainty Benefit Eh... Perché comunque Sephora lì è arrivato dopo Poi c'è tutto lo spazio Skincare Haircare E alla fine troviamo tutto lo spazio Effettivamente che rivende medicinali Quindi comunque Io sono andato lì Non per comprarmi l'Imodium Ma quello l'ho comprato da Sanbury's Ad Alessandro Ma ho comprato il Got2B Glute Io di questa marca Come vi ho già detto nel vlog Nel vlog uso la lacca Per le wig Oppure per i miei capelli E molti usavano il gel Per fare l'effetto laminazione E a quel punto La Got2B ha detto Mica siamo scemi Noi ci creiamo il prodotto apposta Eh... L'hanno fatto Io non so Come funzioni Perché Alcuni dicono che sia meraviglioso Altri dicono che sia arrendo La verità ve la dico io Quindi stavo facendo un po' di mix Bougie Loco Madonna Sei duro Questo l'ho Questo l'ho pagato Circa Sei Questo l'ho pagato Circa sei sterline Forse non lo useremo mai Perché non si apre Sei sterline Che sono circa Sette euro Lo trovate anche su Amazon Ma costa dieci Se mi piace tanto Farò il stapazzello Coprerò anche In Italia È molto liquido A prima vista Il che potrebbe Non andare bene Per le mie sopracciglia Per sto pelo Perché è così lungo? Perché le mie sopracciglia Sono belle e dure E i prodotti così liquidi Tendenzialmente Non vanno bene La laminazione che avevo fatto Tra l'altro Se n'è completamente andata Quindi Lo stiamo provando Scusate Devo togliere sto pelo Vado a prenderlo bene Dalla base E striscio verso l'alto Allora Tirando su Me le sta tirando su Perché io ho questa cosa Che vi dovete capire Io ho le sopracciglia Che non so se lo vedete Hanno un po' di biondo dentro Non si sa per quale strano motivo Ecco I peri più biondi Sono Molli Deboli Mentre i peli scuri Che ho Sono duri Come setolo di cinghiale Ehm Guardate Guardate la differenza Tra questo sopracciglio E questo Cioè si vede Che l'ha tirato un po' su Non so se abbia In qualche modo Riattivato quel minimo Di laminazione Che era rimasta Però effettivamente Forse si però Perché io noto che Su alcuni peli Li ha bloccati bene Mentre altri Proprio non li prendeva Sono combattuto Eh basta Ho deciso Non mi piace Sono arrivato alla conclusione Che non mi piace Ho provato nel frattempo A tirarlo su Ho aspettato che si asciugasse Dall'ultima clip a questa In realtà Sono passati I 20 minuti Però Basta Non mi piace Ma passiamo al vero motivo Di questo video Una vera spinta Che mi ha fatto andare a Londra Ovvero House Labs Io sono andato a Londra Quando sono tornato Letteralmente Qualche giorno dopo È stato annunciato Che House Labs Arriverà in Italia Chiaramente Ho preso Tre virgolette Non è vero Che sono andato a Londra Per il fondotinta Però ecco Tra le varie cose C'era effettivamente Comprere questo fondotinta E a che ero lì Con questo modo di dire Un po' palermitano Ho preso pure il correttore Perché Sia mai Che io sto Con le mani in tasca Ho smembrato Ho smembrato La confezione Perché non riuscivo ad aprirlo Io non l'ho ancora usato Ho preso questo fondotinta Nella colorazione 070 Fair Neutral Mi sono abbandonato A questa experience Ho preso Un fondotinta Della mia colorazione Io di solito Lo prendo sempre Un po' più scuro Perché Voglio essere Jennifer Lopez Però Ecco L'ho preso Il pack È stupendo È pesante È di vetro Si sente La quantità Di soldi Che serve Per comprare Questo prodotto Questo fondotinta L'ho pagato 42 sterline Che sono circa 48 euro Quindi 50 euro Lo costo Manco per nulla Però ecco Cosa non si fa Per la moda Questo è un fondotinta Che ci consigliano Di shakerare per bene Prima dell'uso È infuso Di più di 20 ingredienti Skincare Con una coprenza Media Luminoso Effetto Seconda pelle Ultra fluido È Con una Formula Senza peso Quante parole Per dirci Che è un fondotinta Quindi ora Andiamo a Metterlo Ci siamo evoluti Nel frattempo Usiamo le tavolozze Eccoci qua Si vede molto Quanto sia liquido Quindi direi di Non indugiare oltre E andare a Prenderlo Effettivamente Vi ripeto È molto liquido Si sta stendendo bene La coprenza Mi sembra Bassa Neanche media Però Magari Però dice Di essere Modulabile Quindi Dopo lo proviamo Non va A coprire Di scromie Uniforma la pelle Però ecco Se avete Voglia di coprenza Una sola passata Non vi basta Questa è l'applicazione Su metà viso Devo dire che Videocamera Rende meglio Di quanto Non renda Dal vivo Sono in odore Di 50 euro Buttati Vado un attimo Off camera E cerco di fare E faccio Una seconda passata Che dire È modulabile Effettivamente Se applicato Due volte Raggiunge Una coprenza Media Medio Bassa Sempre Non Media Pura È un fondotinta Che io Vedo già Essere Per Pelli Secche Assolutamente Non adatto A pelli Grasse Lo vedo Troppo Luminoso Troppo Glass Skin Per le pelli Grasse Come la mia Non va A depositarsi In maniera strana Sulla pelle Però ecco Rende Non fa una Non pialla Il viso Mi aspettavo Che fosse Un po' Più Piallante Devo dirvi Che nella stesura Mi ricorda Quasi più Un Siero Fondotinta Che non Un fondotinta In sé per sé Passiamo A un altro Brand E un altro Prodotto Come sapete Io amo tantissimo Il bronzer L'eyeliner Sono due Delle mie Categorie Preferite E se non prendo Uno Prendo l'altro Guardando un paio Di video Su youtube Sono incappato Sono inciappato Caduto Nel video Di The Lady E ho visto Che lei parlava Di questo bronzer Questo è il bronzer Di Rose Inc Che teoricamente È rivenduto Da Sephora Però Solo online Io l'ho trovato Da Space NK Che è questo Negozio Delizioso Dove Vi consiglio Assolutamente Di andare Se capitate A Londra Penso che ci sia Anche da altre parti Il pack è questo Tutto il brand Tutto 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 Rose Inc È ispirato A L'architettura Quindi Chiaramente C'è l'arco E basta Finisce lì L'architettura Perché poi Il nome Dei prodotti Tipo Seychelles Quindi Colorazioni C'erano tre Colorazioni Per questo bronzer Si può Sicuramente Migliorare Tre colorazioni Sono un po' Poche Dentro Il colore Questo Ed è proprio Un bronzer È caldo Direi subito Di andarlo A provare Il colore È effettivamente Stupendo Si fonde bene La pelle Riporta La vitalità Che abbiamo Tolto Con il fondotinta Della mia Colorazione Muro Ecco Questo è il colore Che piace a me Io vorrei avere Questa pelle No Non questa Sono un po' Combattuto Perché sotto Vedo tutto Il glow Di House Labs Quindi Non sto capendo Vi devo dire la verità Sono un po' Inebetito Nei prossimi giorni Comunque Riproverò Questo prodotto Con la mia base Solita Per capirlo Sinceramente Devo dirvi A parte il colore Che lo vedo Benissimo Proprio un bel colore Un bel bronzer Come piace a me Non è troppo scuro Per la mia tonalità Dovrebbe È proprio la tonalità Che dovrei usare io Ecco Per il bronzer Si sfuma in 0 secondi Voi applicate il pennello E lui fa Tutto Da solo Non dovete stare lì A lavorare A sfumare Se vi dà fastidio Questo potrebbe essere davvero Un prodotto Salva vita Se è capitata a Londra Però magari Seforo ci farà La sorpresa Prima o poi E ce lo porterà In Italia Torniamo a One Size Che praticamente Io ho 4 brand Ho comprato Glute House Labs One Size E Rosin Perché fondamentalmente Erano Perché erano I prodotti Che volevo E ho comprato Questo trio Di blush Nella colorazione Attention La colorazione Adoro 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 Io vedo Questo rosino Maialino Super Mi piace Una copertura di plastica Su quello in crema In modo da non andarla a sporcare Con le polveri Ottimo Ci piacciono queste idee creative Grazie Tra l'altro Non so se lo sapete Ma One Size È di un influencer Di Patrick Star Che è un influencer americano E Secondo È Tutto il suo brand Si basa molto Sulla pelle grassa E chiaramente in Italia Non mi fanno la gentilezza Di tenerlo Perché È Oh Che stupendo È proprio Un rosa Maialino fluo Un rosa Radiattivo Bellissimo Bello Bello Si sfuma anche questo In Zero Secondi Io ne metterei Un altro po' Sinceramente Ora facciamo un salto indietro E torniamo House Labs Perché ho preso Anche il correttore Questo correttore Dice Di avere sempre Infusi 20 Più ingredienti Skincare Leggero Senza peso Corregge E illumina Ha una texture Simile a un siero Eccoci qua Quindi non avrà compenso E via Il correttore È questo Il pack È sempre bello Anche se questo È più di plastica Se questa è una bella plastica Il tappo Il vetro L'applicatore È enorme E vado A passarlo Vi so già dire Che non ha coprenza Già solo da questa passata Perché si vede proprio Che Non è Basta House Labs Mi sa Che non è il mio brand Per quanto io ami Lady Gaga La cosa positiva È che l'applicatore Effettivamente Rilascia un sacco di prodotto Ne prende un botto Quindi con una sola passata Potete fare Tutte le zone Che vi interessano Questa è una cosa positiva Perché vuol dire Che c'è meno spreco Di prodotto Mi vedete Un po' costipato Perché Sto vedendo già Cose che non mi piaccio E io ho speso Un botto di soldi Questo correttore L'ho pagato 27 sterline Che sono circa 32 euro Una cosa del genere Non pochissimo Per un correttore Ma andiamo Certo Se avete la pelle perfetta Chiariamoci Se avete la pelle Di Lady Gaga Che si può permettere Trattamenti Ogni giorno E avere la pelle Più bella di questo mondo Bellissimi E niente da dire Se avete la pelle secca Stupendi Che ve lo dico a fare Per la pelle grassa Non so Non so proprio Il correttore Non ha coprenza Lo stendete E se ne va Non copre manco Quello che avete mangiato A colazione Proprio Non l'interessa Lui non vuole coprire Non è nato per quello E non gli interessa A farlo Provo dall'altra parte Con la spugnetta Dove ci sarà ancora meno prodotto Perché la spugnetta Assorbe Infatti come voleva si dimostrare Da questo lato Ce n'è ancora di me Dunque io l'ho preso Nella colorazione 040 Che è praticamente Il corrispettivo Del Il fondotinta Belli è da vedere vicino Perché il pack È stupendo Li sto guardando ora E sono davvero belli Vicini Però Ora Torniamo a One size E praticamente Sono gli ultimi due prodotti Che ho preso Ho preso la cipria Nella colorazione ultra pink Questa cipria È andata virale Penso sia stata Questa cipria Che ha lanciato Un po' il trend Delle ciprie rosate E credetemi È Io non so se Quanto riusciate a notare Da lì Però è proprio Un rosa Radiattivo Il pack È stupendo Anche qui Mi piace molto Il pack Di One size beauty Ha Sopra La Questa cosa Che è fatta Per chi non ha le unghie Ha una copertura In plastica Sopra In modo da non sprecare Il prodotto 34 grammi Ci sono 34 grammi Tantissimo Devo dirvi È proprio Tanto 34 grammi Sono 34 grammi Sono tanti Dice che è una cipria Superfina E che dura 14 ore Lasciando un effetto Blurrato Sulla pelle Fatta per un leggero Baking Oppure per uno pesante E dice di usarlo O Di spolverare Con un pennello Oppure di usarlo Con un puff Noi andiamo direttamente Col puff Perché Io sono in fissa Con questo metodo Di applicazione Scarico un po' Sulla mano E andiamo Opacizza In 0 secondi E Lascia davvero Piallati Però noto che rilascia Anche tanto Tanto colore Qui c'è proprio Tanta colorazione Rilasciata Avrei voluto Prendere anche Quella più Anche quella Più Anche quella più giallina Perché vi dico la verità Qui è Rende tutto Molto salmonato Se avete la pelle Più chiara Della mia Probabilmente Non è la cipria Non è la cipria per voi Perché rilascia Proprio tanto rosa Però raga Fa un effetto Piallato Vi dirò Lo dico eh Se la batte Con quella di Uda Eh sì 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 Ho abbassato un po' La luce Per farvi notare meglio Il colore Eh sì Rilascia tanto Tanto rosa Però raga Cioè Vi pialla Completamente Ecco Ma io la voglio pure Negli altri colori Eh Fatto Io devo riendere a Londra A prendermela Visto che in Italia Non mi fanno il piacere Di vendermela Applico il blush Di nuovo Nella versione Polverina È luminosa Applico di nuovo Il blush Questa volta però Andando a usare La parte La parte opaca Ma quanto adoro Questo colore Scusate È uno dei pochi prodotti Che ha funzionato oggi Passiamo all'ultimo prodotto Ovvero Il setting spray Questo è Ovvero il setting spray Questo è sempre Il setting spray Di Eh One size Che ho pagato Non lo so Qui c'è una moria Di scontrini Per ricordarmi Quanto ho speso 30 sterline Questo L'ho provato in negozio Prima di comprarlo Ed era Alcol Cioè Questa è proprio La spruzzata alcolica Prima degli aperiti Questo fa Potente È potente Però è mattificante Io non ho mai provato Un setting spray È mattificante Questo Siccome ha proprio Una Una pressurizzazione Tipo aerosol Secondo me Lo rende proprio Tanto mattificante Invece di uno Che ha più particelle Liquide Quindi ora Vado a finire Questa full face Come vi ho detto E torniamo Con i pareri Finali Eccoci tornati Con il look Finito Dunque Il look Nel complesso Mi piace molto Mi ci vedo Ci uscirei Tranquillamente Senza alcun problema Mi sento A mio agio Ci sono Alcune cose Che non mi convincono In particolare Di alcuni prodotti Ho fatto il conto Di quanto ho speso Ho speso circa 300 euro Per questi prodotti Allora Dunque Guardiamoci Una volta Completato il look La pelle è piallata La pelle è bella Il fondotinta Si è settato bene Però Ecco Andiamo Passo per passo I due primer Vanno studiati Quindi non mi sento Di dare subito Un giudizio affrettato Su di quelli Devo dire Che però Mi aspettavo di più Da tutte e due Mi aspettavo Più Blare Più Affuscamento Più minimizzazione Dei pori Da parte Di quello di taccia Allo stesso tempo Mi aspettavo Un effetto Più mattificante Da quello Di one size Magari Si avrà più Nel corso delle ore Ma io Questo ad ora Non lo so Vi lascerò comunque Questa informazione Man mano che le uso Il fondotinta E il correttore Di house labs Per me Sono Un enorme No Per il semplice fatto Che in linea generale Sono i miei prodotti Si sente la qualità Si sente Quanto valgono Ma non vanno bene Per la mia pelle Non vanno bene Per la pelle Grass Devo dirvi Il correttore Io lo posso usare Vedo che non va troppo Nelle pieghe Che è una cosa positiva Però Io lo posso usare Perché io non ho Grossi problemi Di occhiaie Se avete un minimo Problema di occhiaie Non potete usarlo Allo stesso tempo Il fondotinta Richiede tanta pelle Richiede tanta cipria Perché se no Rimane Molto lucido E idratante E se non siete abituati A usare tante ciprie Potreste creare Un effetto pesante Sulla pelle E poco gradevole Alla vista E visto che ci siamo Parliamo anche della cipria La cipria è molto bella Crea un effetto Bello Piallante Levigante Molto bello Anche se La cipria Rosata Questa cipria rosata È troppo rosa Per la mia carnagione Cosa voglio dire Che carnagioni Come la mia E come è più chiare Della mia Potrebbero avere problemi Perché va a scurire La pelle A renderla Leggermente salmonata Nel mio caso Non è un problema Perché A me piace La pelle un po' più scura Non è un problema Poi comunque So aggiustarmela Con altre ciprie Ci vado sopra Ci ripasso Però ecco È troppo rosata Se le pelli più chiare Della mia Hanno problemi Con quella di Uda Beauty Rosata Con questa Sicuramente Li avranno Mi sto mangiando le mani Per non avrei preso Anche l'altra Continuiamo con Il blush Il blush Lo adoro È un blush bello È un blush presente È un blush Che proprio Sa di blush È lui È presente Si fa vedere E non ha paura Di farsi vedere Forse È il mio prodotto Preferito Tra quelli che ho comprato Insieme al bronzer Questo bronzer È un bronzer Che un po' parla Al make up No make up Nel senso che È lice Però È quasi vergognoso Non è di quelli Che vi fa il macchione Si sfuma in zero secondi Non avete problemi Davvero Un bellissimo bronzer Vorrei scoprire di più Questo brand Rose Inc Ultimo prodotto Quindi Il setting spray Il setting spray Di One size È un setting spray Che io userei più Come finishing Come fixing spray Non come setting Non come setting Perché noto Che è mattificante Quindi se lo usate Per Sciogliere l'effetto Polveroso Non funziona Ve lo incrementa Se invece lo usate Per chiudere La vostra make up routine E farlo durare Il più a lungo possibile Con un effetto opaco Secondo me è ottimo Usato però Con le pinze Perché è tanto Tanto alcolico Quindi magari usatelo Per le serate importanti Non per tutti i giorni Questi erano I prodotti Che ho preso a Londra Dunque Non sono Serenissimo Perché ho speso Tanti soldi E purtroppo Alcuni prodotti Li userò Perché ormai Ce li ho Per l'amor Velocello Rimarranno Nella mia collection Sono bei pezzi Però non mi fanno Impazzire Purtroppo Non 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 si sposano Con la mia pelle Non si sposano Con Con me Ecco È più un divorzio Che un Sposalizio E mi sa che dobbiamo andare Da un'altra parte Ora a fare shopping Perché ormai ho iniziato Sto spray Che mi piace Però dobbiamo aspettare Un attimo Che qui I soldi ci servono Anche per le bollette Non solo per murarci La faccia È il mio pensiero Sui prodotti Che ho preso Che poi sono anche Delle novità Fondamentalmente Del make up Fatemi sapere Se vi è piaciuto Questo video Con un mi piace E un commento Commentiamo Con la scritta Cremello Iscrivetevi al canale Se questo video vi è piaciuto Se non vi è piaciuto Iscrivetevi Sulla fiducia Che migliorerò Noi ci vediamo In un prossimo video E fino alla prossima volta Vi sei Vicui E vi Ciao angeli E ora vado a mangiarmi Un po' di insalata Che qui ho bisogno